Buongiorno a tutti, sono Simone della concessionaria Autorex. Oggi ho il piacere di presentarvi un fantastico usato nostro, appena ritirato, macchina con pochissimi chilometri, e questa è una vettura che rientra nella promozione che stiamo applicando adesso. Dopo ve lo spiego comunque nel dettaglio. La vettura è un allestimento full optional, quindi la macchina dotata di fare full LED, sensori anteriori, sensori posteriori, cerchi in lega, pedane, vetri posteriori oscurati, mancorrente sul tetto. È una vettura che monta già il gancio traino, quindi comunque è un accessorio, un surplus non indifferente da non sottovalutare. La macchina ha percorso solo 52.000 chilometri e ve la faccio vedere all'interno. La macchina dotata di sedili a regolazione elettrica, sedile a regolazione lombare sempre elettrica, cambio automatico sequenziale, climatizzatore automatico B-Zona, navigatore con retrocamera a 360 gradi, volante multifunzione, la macchina ha un allestimento veramente top. La promozione che vi anticipavo inizialmente, denominata conto sconto, vi permette di prenotare la vettura con soli 200 euro. Su questa vettura in particolare, noi arriviamo a fare un extra sconto di 2.000 euro dal prezzo inserzionato. È una promozione veramente importante. Con questi 200 euro, voi siete sicuri comunque di tenere la vettura fino alla nostra riapertura, che ormai è veramente imminente. La guardiamo, la vediamo insieme e vi applichiamo questa promozione di 2.000 euro di sconto, che è veramente importante. Chiamatemi pure per ulteriore dettagli al numero che vedete sopra. Io sono Simone, vi aspetto alla prossima. Ciao!